La Pantera questa volta avrebbe lasciato il segno. Un'impronta impressa in una campagna di Sant'Angelo a Scala, i resti di un cinghiale rinvenuti in un terreno di Sumonte, sono indizi ritenuti credibili dagli esperti. Le poche ossa rinvenute nella vegetazione a poca distanza da una pozza d'acqua li salirebbero a circa tre giorni fa. La notte scorsa inoltre un'automobilista in transito sulla strada provinciale all'altezza di Grottolella, in linea d'aria a pochi chilometri da Sumonte e Sant'Angelo, ha segnalato ai carabinieri la presenza di un grosso felino. Nelle prossime ore un'area di tre chilometri è stessa tra i due comuni del Partenio sarà battuta a tappeto da circa 50 uomini, tra carabinieri, forestali, volontari e guardie dell'Eco Club. Stamani Summit è in prefettura per decidere sul piano da mettere in campo. Mi sono segnato anche gli appunti che abbiamo buttato giù con il comandante della forestale, con il comandante della forestale della caserma di Sumonte, il comandante dei carabinieri e ci siamo segnati quello che ci vuole. Ci vogliono almeno due esperti a livello nazionale, uno almeno dello zoo profilattico, almeno 4-5 fucili con dardi, 30 addetti con cani, quindi 30 addetti al di fuori delle forze dell'ordine e ovviamente esperti del territorio per andare nei luoghi giusti dove è possibile fare questa battuta. La volontà comune è quella di non fare del male all'animale, ma semplicemente catturarlo in tutta sicurezza e poterlo poi dare a chi è di competenza. Nel corso delle ricerche di questa mattina a Sant'Angelo a Scala abbiamo incontrato Matteo, uno dei tre testimoni di tre giorni fa. Sono sicuro, dice il ragazzo, ho visto la pantera balzare oltre una rete di recensione nella zona delle palazzine dove è stata avvistata da Pasquale Capolupo il cacciatore che avrebbe incrociato il grosso felino solo a un metro e mezzo da lui. Stavo a casa di un amico, abbiamo visto un po' di confusione fuori dal balcone, ci siamo affacciati per curiosità, abbiamo sentito che parlavano della pantera e della non la pantera. Quindi siamo venuti a rientrare dentro, a prendere una torcia e ci siamo affacciati nuovamente. Appena l'abbiamo puntata subito, abbiamo visto due occhioni grandi, gialli, uno distante dall'altro, ben distante dall'altro. Dopodiché, quando abbiamo cominciato ad allungarla, si è girata e ha scavalcato una recensione abbastanza grande e dopodiché non l'abbiamo vista più. Si parla anche di suggestione, di psicosi, però te la senti di confermare che è un grosso felino? Io sì, me la sento di confermarla perché dagli occhi che ho visto, dalla distanza che c'era e dall'ombro che ho visto posso confermare che era una pantera.